Nella mattinata di martedì 9 luglio il personale della Digost della Questura di Torino, nell'ambito di una più articolata attività d'indagine sui sodalizi dell'estrema destra oltransista piemontese, ha eseguito 11 perquisizioni delegate dalla locale autorità giudiziaria presso le abitazioni e i luoghi in disponibilità di militari di Forza Nuova e dell'Associazione Legio Subalpina di Torino e del sodalizzo Rebel Film di Ivrea. L'attività d'indagine per il reato di apologia del fascismo, scaturita a seguito dell'esposizione lo scorso 22 maggio in corso Unità d'Italia di uno striscione recante alla scritta «Spezza le catene dell'usura, voto fascista, vota Forza Nuova», seguita dal simbolo del fascio Littorio, la cui foto ritraente all'azione criminosa era stata anche postata sul profilo Facebook di Forza Nuova Torino, ha trovato ulteriori svolti probatori e spunti investigativi dopo il rinvenimento, lo scorso 20 giugno, nel corso di analoghe perquisizioni di diverso materiale dare inneggiante al fascismo e al nazismo, nonché al sequestro presso la sede di Forza Nuova, di Mazda Baseball e di 25 scudi in plexiglass con simbologie di estrema destra. L'attività investigativa è stata poi estesa anche a sudalizzo e porre di Esa Rebel Film, contigua Forza Nuova, e all'associazione D'Area Skin, Leggio Subalpina, evidenziatasi in questo capoluogo già nel dicembre 2015, la cui nuova sede è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 2 marzo, con la partecipazione di militanti d'area proveniente anche da altri contesti territoriali. Inserita in un non più ampio progetto dell'estrema destra nazionale denominata Federazione, che si prefigge l'obiettivo di coalizzare e rafforzare le varie realtà della destra extra-parlamentare presenti sul territorio italiano. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato e sequestrato materiale inneggiante al fascismo e al nazismo, nonché diversi coltelli, anche a scatto, mazze, tirapuni, un macete, proiettili, manganelli telescopici, ermi nazisti, pistole e giocattolo senza tappo rosso e diversi fucili e pistole per soft air. È stato altresino invenuto materiale riconducibile ai gruppi ultra delle Juventus, con particolare riferimento al sudalizio di estrema destra, a drughi giovinezza e al gruppo tradizionale antichi valori, nonché inneggianti alla violenza. Dalla tipologia del materiale sequestrato è stato possibile riscontrare alcuni collegamenti con omologhe formazioni transiste, quali generazione identitaria e il movimento anglosassone combat 18 e i combattenti di Adolf Hitler. È stato un'altra restato il leader dell'associazione d'area skin Leggio Subalpina, pluri pregiudicato, per danneggiamento, rapina, rissa, porta abusivo di arma e manifestazione fascista, nell'abitazione del quale è stato rinvenuto, oltre a materia inneggiante al fascismo e al nazismo, anche emozionamento da guerra. Grazie. 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 Grazie.